A piedi cammino, in macchina viaggio, in moto sogno e la frase scolpita nella targa posta in via Marconi a Trivento a ricordo di Antonio San Marone, lo sfortunato operaio 44enne scomparso in un tragico incidente motociclistico in una galleria a pochi chilometri da Isernia, sulla fondo Valle Trigno, travolto da una utilitaria il 28 febbraio del 2019. Il terzo Memorial ha visto le autorità del posto con in testa il sindaco Pasquale Corallo, gli esponenti della Proloquo e numerosi cittadini, al fianco della consorte Esterina e dei due figli. Per l'occasione sono stati sistemati all'ingresso dell'area pubblica dell'edificio polifunzionale un albero di olivo e una fontanina. Al termine della commossa benedizione religiosa da parte di frate Adrien dei Padri Salettini, il motogiro per le strade del paese di amici e conoscenti giunti nella località Trignina anche da fuori regione.